è la più venduta della gamma jeep best seller in italia e in europa e considerata da molti il riferimento tra i suv compatti stiamo parlando di jeep renegade la renegade da sempre piace così tanto che con il nuovo restyling non la si poteva cambiare troppo fuori è sempre lei con quel look da fuori strada e le sue forme squadrate immediatamente riconoscibili anche nei passaruota i pc del marchio jeep l'anteriore è stato interamente rivisto e ora ha un disegno più pulito sempre presente la tipica calandra a sette feritoie verticali che contraddistingue il marchio i fari circolari non cambiano ma ora sono dotati di luci a led integrate e dei proiettori a led che le conferiscono un aspetto più aggressivo e la rendono più sicura anche i fari posteriori sono a led e mantengono quella finitura interna ad x tipica della renegade non sono cambiate le dimensioni ideali anche per muoversi in città è lunga 4 metri e 23 larga 1 80 e alta 1 69 del resto di tutte le auto del brand è la più piccola e quella più a suo agio nell'ambito cittadino maneggevolezza ingombri ridotti sono tra i suoi pregi all'interno troviamo al centro della plancia il sistema di infotainment uconnect con un display da 8 pollici e 4 dotato di apple carplay e android d'auto tramite cui si può controllare anche la radio digitale d'abba il climatizzatore automatico a due zone e tutte le impostazioni della vettura il motore mille a benzina a tre cilindri e 120 cavalli abbinato a un cambio manuale a sei rapporti è ottimo per la città e si comporta molto bene anche in autostrada senza troppi frusci e vibrazioni ottima la dotazione di sicurezza troviamo infatti cruise control adattivo sistema anti collisione con frenata automatica di emergenza riconoscimento dei segnali stradali e lane assist per il mantenimento corsia la renegade piace per il suo stile americano che però ha dimensioni adatte alle nostre strade equilibrata e facile da guidare si è rivelata confortevole e rassicurante in ogni situazione vieni a trovarci nelle concessionarie tomasi auto di verona e guidizzolo ti aspettiamo anche sabato e domenica da tommasi auto trovi questa jeep renegade a 21.900 euro senza nessun vincolo e con oltre 4.000 euro di sconto rispetto al prezzo di distino provata a verona per voi